Era lavoro nello yacht in cui prestava servizio ormai da più di sei anni, una morte improvvisa che ha lasciato la comunità di Ponso sotto shock. Paolo Bellamio aveva solo 41 anni, residente a Ponso, è morto a largo di Jedda. A dare la notizia della tragica morte, il fratello Simone è contattato dai carabinieri di Ponso ieri sera. Paolo sarebbe dovuto tornare a casa domenica prossima, stava terminando il suo periodo di impiego nello yacht che lo vedeva impegnato ormai da luglio 2018. Si trovava su quell'imbarcazione da almeno due mesi e prima di iniziare come d'uso aveva fatto un check-up sanitario. Aveva lasciato l'Italia giovanissimo con il sogno di diventare uno chef di successo. Arrivato a Dubai al Café Florian dove aveva assunto il ruolo di head chef. L'esperienza con Costa Crociere, poi nella cucina del Rosso Restaurant, proclamato il miglior ristorante italiano di Dubai. Nella sua lunga carriera anche la partecipazione come giudice nel programma televisivo Top Chef Arabia. Testimonial per la Peroni per una campagna pubblicitaria pensata proprio per Dubai. Paolo lascia la moglie Grace, talendese. Due bambine di 3 e 5 anni non è escluso che venga disposta all'autopsia per chiarire le cause della sua morte.